Si chiama Indetech ed è un'azienda tutta fanese, leader in Italia nella produzione di protesi dentali. La particolarità che rende questa azienda unica nel suo genere è sicuramente la tecnologia utilizzata, tutta di altissimo livello, che comprende anche un centro laser e fresaggio che riesce a realizzare elementi ad alta precisione in appena un paio di giorni, riducendo tempi e costi. All'inaugurazione della nuova sede in Via Enaudi a Bellocchi di Fano, 1500 metri quadri di alta tecnologia in stile avvenieristico, c'erano quasi 200 invitati d'eccezione, odontoiatri e specialisti del settore provenienti da ogni parte d'Italia. L'imprenditore fanese che ha messo in piedi questa start-up di successo in appena un paio d'anni e che dà lavoro a 14 persone tra ingegneri, biomedicali e odontoiatri, si chiama Emidio Cennerilli. La Indetech è un'azienda che in solo due anni è diventata leader in Italia in questo settore, abbiamo oltre mille clienti da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia. Realizziamo semi lavorati in un giorno lavorativo, quindi riceviamo i file ad esempio il lunedì, il martedì siamo in là di spedirli attraverso i corrieri ai nostri clienti, i quali riceveranno i manufatti il mercoledì mattina pronti per essere lavorati, finiti, ceramizzati.